Creiamo PA verso una mobilità più sostenibile, se ne parla questa mattina Pescara, ci sono assessori e anche i tecnici del Ministero. Pescara è stata selezionata insieme a altre 5 città in Italia per questi forum, che sono forum per il miglioramento della qualità della vita, quindi per una mobilità più sostenibile, che sicuramente sia da un punto di vista ambientale che da un punto di vista sanitario rappresentano un aspetto fondamentale. Rappresentano la sintesi di quello che noi stiamo facendo in questi ultimi 5 anni, dove stiamo in qualche maniera rivalutando il tipo di mobilità all'interno di questa città con una mobilità più dolce e più sostenibile per poter permettere una migliore qualità della vita da parte dei cittadini. Il progetto Creiamo PA consiste nella realizzazione da parte del Ministero dell'Ambiente di numerose linee di sviluppo. La linea L7 si occupa appunto di mobilità sostenibile ed ha lo scopo di informare, formare e supportare le amministrazioni locali e le amministrazioni di aria vasta, come l'esempio di Pescara e dei comuni che vanno a questa città associandosi nella realizzazione di progetti di mobilità sostenibile, una mobilità attenta all'ambiente, una mobilità attenta alla sostenibilità degli stili di vita. Una realtà non eccessivamente estesa come Pescara può essere un laboratorio sicuramente interessante.